Tino è proprio vero che i poveretti aiutano i poveretti, chi è in difficoltà aiuta chi è in difficoltà. Noi perché siamo per strada e ci consumiamo le scarpe? Perché queste cose le viviamo sulla nostra pelle e torniamo da Gigi perché abbiamo saputo che Teresa è stata dimessa dall'ospedale, però non è una buona notizia nel senso che non è stata dimessa perché è migliorata, è stata dimessa perché è giusto che stia a casa. Sì, preferisco che stia a casa e così stando in ospedale, così stando qui, per la febbre alta, però la febbre parlando con il primario va tutto bene, per loro i livelli, i parametri erano buoni, quindi mi disse se la volevo portare a casa. Io ho preferito portarla a casa, almeno per me era un casino. Un calvare andare avanti e dietro, gli orari, così c'è sempre qualcuno. Poi in quell'ambiente non è certamente il meglio possibile. La maschera l'hai trovata? No, ti ho mandato dicendo che quella è la S, hanno sbagliato. C'è stato un malinteso perché noi la maschera avevamo esultato, avevamo pensato di averla trovata. In realtà non era la M ma la S, quella che ci è stata data un campione, abbiamo fatto un giro pazzesco per poterla avere, ma purtroppo è piccolina. Quindi noi però che abbiamo fatto, caro Gigi, abbiamo chiesto e quindi stiamo procurandoci la M perché istituzionalmente non è arrivata. No, niente ancora. Il primario sinceramente mi chiese, perché seppe della situazione, ma io ho detto no, purtroppo c'è stato un errore, è arrivata ma sbagliata. Invece della M, la S. E quindi aiutaci, aiutaci. Vanna aiutaci tu, perché Vanna è la nostra fonte, capito? La nostra donna lavana. La donna lavana, Vanna ti prego. Ora, ci sono delle novità però, purtroppo Teresa non può più mangiare o bere di sua iniziativa, deve per forza essere alimentata tramite PEG. Ecco, quindi cosa è successo? Proprio per le forniture che arrivano in quantità in alcuni casi, ci sono questi Nutrizia, Nutri Drink Compact, che sono evidentemente integratori per chi purtroppo non riesce a mangiare come deve, al gusto di caffè e di banana. Questo è solo un piccolo campione, ci sono altri 5 cartoni come questo. Quindi se qualcuno ha davvero bisogno, e sapete che noi 3, 2, 1 sappiamo se c'è qualcuno che ha davvero bisogno e non ha davvero bisogno, di questi drink, sappiate che scadono il febbraio 2025, la maggior parte, sì, il febbraio 2025 e quindi abbiamo tempo per poterli utilizzare. In più, in più, Gigi ha anche da dare una sedia. Una sedia, sì, abbastanza importante, buona. E quindi anche in questo caso, se qualcuno ne avesse bisogno, non deve fare altro che scriverci al 348-896-6969 oppure qui sotto nei commenti o sui vari social o alla nostra mail, redazionequintropoterechiocciagmail.com per riuscire a candidarsi, a farsi avanti e noi provvediamo. Sì, perché mia moglie purtroppo sulla sedia non ci va più, non può andare più. Ormai resta allettata. Allettata, sì. Non si può fare diversamente. Quindi è un peccato se qualcuno ne ha bisogno, perché no? Volentieri, certo, questo è importantissimo. Noi invece, vi ricordate quella sedia che vi feci vedere, ti ricordi, una casa mia qualche mese fa, dopo tutta una serie di telefonate, ce l'ho avuta a casa per mesi, siamo riusciti a darla ad un'associazione che ovviamente ne farà l'uso che deve e noi li ringraziamo, Gemma Onlus, per quello che fa sempre per chi ne ha bisogno. Gigi, io quando sto con te non riesco a trovare la forza di fare altro, perché mi immedesimo in un uomo, marito, padre devastato sotto ogni punto di vista che lotta, continua a lottare in continuazione contro tutto e tutti per la propria moglie. Io vi ringrazio, io vi ringrazio, io con tutto il cuore vi dico che anche quando ho il vostro aiuto mi sento un fratello. E questo ci fa molto piacere. Ah, dimenticavo, ce lo diciamo l'altra volta ma poi è passato, noi ci dobbiamo sentire perché Vanna, la gente a Lavana, vorrebbe capire che tipo di assistenza è assicurata a Teresa, perché lei dice non vorrei ci fosse qualche lacuna nella tipologia di assistenza e quindi invece si può fare qualcosa per avere un quadro più completo. Io questa settimana ho due appuntamenti che mi hanno chiamato proprio stamattina, una arriverà un tecnico per il puntatore ottico che ci mandarono, però quanto tempo fa hai avuto il puntatore ottico se te lo ricordi più? Due mesi fa. Dopo due mesi arriva il tecnico. Arriva il tecnico, un appuntamento per spiegarci un po'. Cioè. Mercoledì alle 11 verrà la, non so, una dottoressa del comune per le OS che abbiamo fatto. Per poter avere la richiesta dell'OS. E quindi ho questi due appuntamenti e poi... Poi vediamo se ci prendiamo un caffè tutti e tre, capiamo se c'è questa possibilità di integrare le varie forme di assistenza di cui ha diritto Teresa in un'unica strategia, in un piano comune per poterla aiutare. Sì perché io con mia figlia siamo stati all'AS e ci hanno spiegato, grazie a... si trova gente veramente buona. Allora Gigi, il problema è che devi trovare sempre la persona giusta al momento giusto. Invece dovrebbe essere un sistema che funzioni. Noi non sapevamo che mia moglie doveva essere iscritta nella fragilità. Nelle fragilità. E forse questo è quello che Vanna voleva dirci, l'iscrizione nei soggetti fragili. Grazie a queste persone ci hanno indirizzato, spiegato. Finora nessuno te l'aveva detto. No, sono sette anni Antonio che mia moglie ha questa malattia fragilissima. Un toccante di cavallospo che ha? Fragilissima. E nessuno ci ha spiegato che mia moglie andava scritta per... Nell'elenco dell'elenco. Nell'elenco eh? Per avere... Qualcosa un po' più veloce e qualcosa di diverso. Invece noi... Cambacavallo che la sanità... Adesso vediamo un po'. Noi tra l'altro confidiamo molto Tino. Aspettiamo. Nella unità dell'assistenza delle persone fragili perché sappiamo che si dà un grande affare e sappiamo che è fatta da gente che ha... Dopo sei, sette mesi ti ricordi quel materasso? Certo che mi ricordo. È arrivato dieci giorni fa. Quindi il materasso che ti ho portato io eh? È arrivato dopo sei, sette mesi richiesti. Sì. Oggi rischi eh? Perché io con qualcuno mi devo sfogare. Comunque è arrivato e... Eh va bene. Va bene. Quello che arriva dobbiamo tenere e se non arriva lo dobbiamo ottenere. Gigi, salutaci Teresa, non la vogliamo disturbare. Grazie. Per ora e solo per ora ve lo ricordiamo c'è una sedia in ottime condizioni, una buona sedia a disposizione e ci sono questi drink al caffè e alla banana che solitamente beve chi non può alimentarsi eh in maniera autonoma, no? Ok? Quindi se può berli questi drink fanno al caso. Quando mia moglie non mangiava eh sì come doveva allora c'erano questi. Prendeva quattro di questi al giorno che erano nutritivi. Eh speriamo che possano in qualche maniera aiutare qualcun altro. Ve lo ricordiamo scadenza a febbraio duemila venticinque per ora e solo per ora è quasi tutto. Grazie.